Invecchiare è inevitabile. Invecchiare bene è possibile. La mente è una struttura molto plastica, risente di come siamo, di cosa facciamo e di come lo facciamo. Tenerla in funzione giocosamente è un modo per proteggerla. È un modo per renderla resistente e per mantenerne l'efficienza il più a lungo possibile. Se poi tutto questo lo facciamo in compagnia, l'effetto è aumentato. Ho voluto iniziare leggendovi queste parole perché credo fortemente nella potenza e nel valore del gioco. Perciò oggi quello che vi proporrò saranno due giochi due giochi che potete fare a casa senza avere bisogno di alcun tipo di materiale. Il primo gioco che vi propongo si chiama catena di parole. Come si gioca? Allora, la prima persona partirà dicendo la prima parola che le viene in mente, ad esempio sole. Però la persona che lo seguirà dovrà dire una parola che dovrà dire una parola che inizia con la sillaba finale della parola detta precedentemente. Perciò se sole finisce con la sillaba le, la persona seguente dovrà appunto dire una parola con l'iniziale le. Ad esempio lenticchie. Lenticchie finisce in chie, quindi il prossimo giocatore dovrà trovare una parola che inizia con chie, ad esempio chiesa e così via. Il secondo gioco invece che vi propongo si chiama il gioco degli ambienti. Vi consiglio di decidere insieme un ambiente che può essere un ambiente della casa come non ad esempio il salotto, il bagno, ma anche le poste, il parco, la banca. Una volta deciso l'ambiente parte una persona dicendo una parola che ha a che fare con quell'ambiente. Perciò se l'ambiente prescelto fosse bagno potremmo dire cartigienica, water, spazzolini e così via in modo da creare un elenco di cose che quell'ambiente contiene. È un gioco appunto che si fa a voce oralmente, però vi posso consigliare se siete anche in un gruppetto di poterlo fare anche in maniera scritta, dandovi però un tempo in modo da poi confrontarvi e vedere chi ha fatto l'elenco più lungo di tutti. Questi sono giochi da poter fare in compagnia, potete però farli anche da soli. Ad esempio il gioco catena di parole, se siete da soli potete pensare a una serie di parole nella vostra testa, potete anche dirle a voce alta e cercare di continuare l'elenco di parole con l'iniziale dell'ultima sillaba della parola precedente. Mentre il gioco degli ambienti potete farlo dandovi un limite di tempo e lo potete fare in maniera scritta. Quindi prendete un foglio, vi scrivete l'ambiente che scegliete e se decidete che in un minuto dovete scrivere tot parole, vedete quante parole scrivete in quel limite di tempo che vi date. Per oggi ho finito di dare i miei consigli giocosi e che spero che comunque proviate a mettere in pratica e proviate a giocare sia da soli sia in compagnia. Perché giocare fa bene, perché giocare ci aiuta a proteggere la nostra mente. Io con questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana.